Non c'è l'unanimità dei sindaci all'Assemblea del Lanci sull'accoglienza dei migranti. Solo 64 primi cittadini hanno detto sì al progetto Sprar. Il Tiguglio si conferma terra da set cinematografici. È aumentato nel 2016 il numero di produzioni video per spot, documentari e clip musicali. Con quattro palanche si è chiuso il periodo dei saldi a Lavagna. Il bilancio tratteggiato dai commercianti non è sempre positivo. Santo Stefano Davito valorizza gli impianti sportivi. Al via un progetto per il campo di calcio e il bocciodromo. L'obiettivo è di attrarre turismo anche senza la neve. Celebrata la giornata mondiale delle malattie rare, chi è in difficoltà trova spesso nelle associazioni la forza per andare avanti. Sempre più restrittive le norme sull'uso di fitofarmaci in agricoltura. Necessario il patentino anche per i contadini e gli obbisti. Per vedere l'altro occorre cambiare sguardo. A parlarne a Chiavari, Giacomo Mazzariol, l'autore del libro che racconta la sindrome di Down e ha emozionato l'Italia. Tanti studenti coinvolti come guide e volontari nell'allestimento della mostra dedicata al tema delle migrazioni a Chiavari, visite fino a domenica. Accoglienza profughi con il sistema Sprar, favorevole Santa Margherita Ligure, perché si favorisce una migliore gestione, contraria a Rapallo perché non sono state date sufficienti garanzie. I pescatori professionisti hanno sospeso le iniziative di protesta contro le nuove sanzioni previste per il settore. Il governo apre a modifiche. Lavora a Sestri Levante, un corso di formazione per giovani che desiderano occuparsi di lavoro, temi sociali e di inclusione. Il piano della regione Liguria per il turismo, presentato a Chiavari e previsti nuovi finanziamenti, si discute sull'introduzione della tassa di soggiorno. Ai cantieri di Riva Trigoso varata la settima frem che servirà per le missioni internazionali dell'Italia. Con la presentazione ufficiale di Roberto Levaggi sono cinque i candidati alle prossime elezioni a sindaco di Chiavari, Giorgio Canepa, Marco Di Capua, Giovanni Giardini e Roberto Traversi. Area prelie a Chiavari, in fase di ultimazione i tetti degli edifici, cinque i piani fuoriterra. I lavori, assicurano i responsabili, stanno seguendo le prescrizioni del progetto approvato. Ben trovati all'appuntamento con il Tg, guardando la settimana la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi sette giorni. Iniziamo dai notiziari di lunedì, ci siamo occupati della questione dello Sprar, con la mancata unanimità da parte dei sindaci all'Assemblea dei Lanci sull'accoglienza dei migranti in merito al progetto Sprar. Parleremo poi del Tiguglio come terra da set cinematografici, infatti nel 2016 sono aumentate le produzioni che hanno visto realizzare e lavorare troupe sul nostro territorio e poi il bilancio della stagione commerciale a Lavagna, con quattro palanche si è conclusa la stagione dei saldi, ma per i commercianti non è stato un anno positivo. Andiamo a vedere i prossimi servizi. Sono 64 i sindaci Liguri che hanno detto sì al piano del Lanci per l'accoglienza dei migranti, sindaci che aderiranno al progetto Sprar, il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati che garantisce una maggiore autonomia delle amministrazioni e la possibilità di gestione in rete con altri comuni o enti. Per Lanci la scelta migliore, peraltro il testo votato oggi prevede che l'associazione dia assistenza tecnica a chi vorrà aderire allo Sprar. 16 invece i primi cittadini che si sono posti nel Tiguglio, a tutti i primi cittadini hanno detto no Chiavari, Rapallo, Moneglia, Carasco, Casarza Ligure, Recco, Rezzoaglio, Orero e Avegno. Tra gli astenuti Lorsica, Moconesi, Portofino e Zoagli. Ora i comuni ratificheranno la loro decisione in consiglio comunale. In quelli che rifiuteranno lo Sprar sarà la prefettura, con l'attivazione dei bandi, detti CAS, a determinare il numero dei profughi in arrivo, senza alcuna possibilità per i sindaci di avere voce in capitolo. Mentre i primi, cioè i comuni che faranno lo Sprar, godranno della salvaguardia di un'apposita clausola che sostanzialmente dice che dove c'è uno Sprar non possono essere aggiunti ulteriori numeri e non possono essere aperti dei CAS e quindi quelli che hai fatto, quelli che hai determinato nel progetto sono quelli per tre anni, dove invece non c'è lo Sprar i numeri sono indefiniti e quindi sarà la prefettura a determinarli. Dunque è chiaro ed evidente che c'è un certo vantaggio notevole a procedere con lo Sprar. Noi comunque faremo un'azione di accompagnamento anche nei confronti dei comuni che non hanno scelto questa via affinché possa essere il più possibile mitigata la presenza. Tuttavia non si può nascondere che davanti alla quantità che le prefetture di ogni provincia devono attribuire al territorio non avere l'ombrello, il paracadute, chiamiamolo come vogliamo, dello Sprar è certamente un punto di debolezza. Come è stato questo periodo? Insomma, un pochino si pensava un pochino meglio, le cose stanno comunque migliorando a poco a poco, soprattutto le giornate del venerdì e sabato. Noi siamo aperte poi anche la domenica mattina dove c'è un pochino più di flusso. Come diciamo vendita è andata abbastanza bene, soprattutto con le persone, quelle che vengono nel weekend e quindi con gente di Milano così. Con le persone di qua un pochino più diciamo un po' più critica la situazione e in generale abbastanza bene perché noi abbiamo fatto anche diciamo delle tipo su Facebook, delle pubblicità, abbiamo dato delle mail quindi abbiamo anche un po' attirato il cliente. C'è un forte calo, specialmente a Lavagna noi siamo veramente, il calo è sempre più deserto e i saldi uno o due giorni e poi basta. Io mi aspettavo più affluenza, come tutti ci si aspetta nei saldi magari di lavorare di più. Il discorso è che a Lavagna già alla luce dei fatti odierni, di quello che succede, magari Lavagna in questo periodo è meno presa dai turisti diciamo. La mancanza di politica, cioè di una compagine comunque con la quale ci si possa relazionare e la sentiamo la mancanza. Percepiamo una certa ingessatura per così dire fra virgolette in tutto l'apparato. Diciamo che bene non ha fatto, la pubblicità non è stata positiva, speriamo che si risolva in tempi brevi in via definitiva, una soluzione deve essere prima o poi, così non va bene. Da qualche anno a questa parte i saldi hanno una buona funzione soltanto nei primi due weekend e poi vanno a scemare e non hanno più quella pettibilità che avevano qualche anno fa. È un settore che bisogna un po' rivedere sia secondo me come date che come formula per incentivare maggiormente le persone a visitare le nostre attività durante un periodo un po' più lungo e ereditizio per il commercio perché in questi anni diciamo che la batosta è veramente stata forte. Il Tiguglio si conferma terra da set cinematografici. Sono aumentate infatti nel 2016 le giornate di produzione di film, fiction, programmi tv, spot commerciali e documentari grazie alla collaborazione sempre più stretta con la Genova Liguria Film Commission e non solo e con ricadute in termini di promozione di presenze per il territorio molto significative. Ecco allora il complesso monumentale di Valle Cristi a Rapallo diventare l'ambientazione per il videoclip musicale del singolo Ruins of Memories della cantautrice genovese Charlie alias Carlotta Risso. Il lungomare di Rapallo fare da sfondo ad uno spot di salumi in onda sui canali televisivi sudamericani o le sale operatorie dell'ospedale Nostra Signora di Montallegro usate da una produzione cinese che necessitava proprio di stanze d'ospedale per la realizzazione di una fiction ambientata in parte a Genova dal titolo To Be A Better Man. Inoltre il comune di Rapallo, nello specifico gli ambienti interni del municipio di Piazza delle Nazioni e alcuni scorci paesaggistici, hanno fatto da sfondo per uno spot pubblicitario di una compagnia di noleggio auto girato dalla Bootleg London con il regista Adam Morley. Altri esempi di produzioni audiovisive realizzate nella riviera di Levante sono il documentario musicale di Jonas Kaufmann, My Italy, una produzione italo-tedesca che racconta le emozioni del famoso cantante lirico in un DVD ricco di Liguria e nello specifico di Tiguglio, ma anche il documentario Inspired by Genoa realizzato dall'emittente televisiva di Gibilterra, la GBC, nella quale la conduttrice, Paola Latine Canessa, si muove alla ricerca delle sue origini, la famiglia Canessa, e si aggira per le strade e le piazze di Rapallo mostrando e raccontando la storia della cittadina ruentina. Al di fuori della collaborazione con la Genova Liguria Film Commission, poi nell'estate dello scorso anno, Rapallo ha ospitato la fiction in costumi d'epoca inizio novecento, sacrificio d'amore del regista rapallese Daniele Carnacina. Una troupe di 40 persone e più attori ha girato alcune scene a Villa Tiguglio e sul litorale tra il porto Carlo Riva e San Michele di Pagana. Le 22 puntate da 80 minuti in questo caso andranno in onda prossimamente su Canale 5. Andiamo adesso in Alta Val Daveto. Santo Stefano Daveto purtroppo registra una stagione negativa, fortemente negativa per quanto riguarda la mancanza di neve. Nonostante questo vuole puntare sugli impianti sportivi per attrarre turismo anche in situazioni come quelle che si sono verificate negli ultimi mesi. E poi si è celebrata nella giornata di martedì la giornata mondiale delle malattie rare, punto di riferimento per famiglie e pazienti molte volte le associazioni che si occupano di questo tema. Vediamo. Non stupiscono i 14 gradi di domenica scorsa Santo Stefano nell'inverno che non c'è della Val Daveto. Le temperature non sono mai state davvero rigide quest'anno. Solo 15 giorni con il termometro sotto lo zero, di neve se ne è vista pochissima. Anche questa mattina il bue e la cipolla non sono andati sotto zero nonostante la giornata grigia. Una stagione disastrosa che ha causato disagio ai ristoratori e agli albergatori e che difficilmente potrà risollevarsi nelle prossime ultime settimane invernali. Il buono della stagione che si sviluppa prevalentemente dicembre, gennaio e febbraio, anche se negli ultimi anni eravamo ormai abituati a pensare alla neve in Val Daveto da metà febbraio in poi. Chiaramente qui abbiamo perso i mesi più importanti. Una neve tardiva a marzo non trova comunque le condizioni di un fondo preparato e quindi avrebbe una durata anche molto più breve. Ragioneremo solo sugli clienti. Gli amministratori della Val Daveto puntano a valorizzare l'esistente per richiamare turisti e appassionati. La soluzione della neve artificiale infatti non convince. La spesa di gestione è troppo alta e occorrono temperature ideali per mantenere il manto bianco. La giunta di Santo Stefano spinge per valorizzare i suoi impianti sportivi attraverso un finanziamento in conto capitale che l'amministrazione restituirà in 15 anni. Sta partendo proprio in questi giorni un progetto di riqualificazione di tutta l'area sportiva che vedrà una sistemazione del campo come fondo in modo da consentire campestivi a squadre di bambini appassionati ovviamente di calcio. C'è una riqualificazione del bocciodromo che prevede la realizzazione di alcune opere da utilizzare sui 12 mesi e questo ci consentirà di poter dare offerte diciamo alternative in giornate di pioggia durante il periodo estivo è comunque un'offerta weekend invernale se non innevato. Spesso non ci sono medicinali perché le case farmaceutiche non investono su malattie che hanno poca incidenza oppure non c'è diagnosi e quando c'è può essere complicata o tardiva. È il difficile mondo delle malattie rare la cui giornata si celebra l'ultimo giorno di febbraio una data che ogni 4 anni cade il 29, un giorno a sua volta raro. Eppure queste malattie e i casi ad esse legati sono numerose. Si parla di malattie rare quando c'è un'incidenza di circa 5 su 10.000 persone. Si dice 5 pochine però siamo in tanti quindi gli ammalati di malattie rare solo in Italia sono un milione e mezzo di persone. È questo che colpisce perché le malattie rare diagnosticate fino ad oggi sono 6.000. Dalle 6.000 al 7.000 perché alcune non hanno neanche ancora un nome. Le associazioni rappresentano un aiuto importante per le famiglie che si trovano a vivere un'esperienza difficile come quella delle malattie rare. Patologie che un tempo si tenevano nascoste o si accettavano in modo passivo. Oggi proprio grazie alle tante associazioni si riesce a fare rete e a trovare coraggio. Quando certi dicono che la vita non è degna di essere vissuta e questa cosa fa molto male fa molto male alle famiglie che hanno un bambino o un ragazzo ammalato di una malattia rara fa molto male agli ammalati perché ogni vita è comunque degna di essere vissuta solo per l'amore che ha ricevuto e che può dare. Un momento di riflessione nel Tiguglio si terrà sabato 4 marzo all'oratorio di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. In particolare alle 17 incontro pubblico organizzato dall'AISA sul tema delle malattie rare e delle barriere architettoniche. Se c'è anche solo uno scalino, una scala non accessibile anche negli ospedali, anche negli uffici, negli ambienti comuni, ecco che diventa difficile, cioè si complica anche la vita che ha già tutte le sue complicazioni. I temi dell'ambiente e dell'agricoltura nella telegiornale di mercoledì mercoledì infatti diventano sempre più restrittive le norme per l'uso di fitofarmaci in agricoltura. È necessario infatti un patentino anche per contadini e obbisti. La cooperativa Lavagnina a questo proposito ha avviato un corso. Sentiamo. Gli esami nella vita non finiscono mai, anche per dare una mano di verde rame alle piante in giardino o nell'orticello di casa. Anche piccoli contadini, piccolissimi contadini, addirittura piccoli obbisti che hanno bisogno di piccole quantità di prodotto da dare a piante, fiori, culture, dovrà essere munito di questo patentino. La normativa in materia di acquisto e utilizzo di fitofarmaci in agricoltura si è fatta più restrittiva, lo scopo essenzialmente precauzionale a salvaguarda dell'ambiente e della salute. Tu manipoli agricoltore, contadino, piccolo o grande che sia, dei prodotti che possono e senz'altro lo sono, e la scienza l'ha dimostrato, molto tossici. Quindi come tale devi prendere determinate precauzioni. Per prendere determinate precauzioni devi essere in grado di conoscere questi prodotti. Ecco perché è stata la necessità di dover non solo qualificare le persone che comprono, che acquistano e che utilizzano questi prodotti, ma anche, una cosa, questa è stata la novità di questa normativa, anche chi vende questi prodotti. Per questo motivo la Cooperativa Agricola Lavagnina organizza un corso che si conclude con un esame di abilitazione. Forse normalmente l'acquisizione del patentino sono 20 ore di formazione. 20 ore di formazione, è previsto poi un rinnovo del patentino, perché comunque periodicamente il patentino deve essere rinnovato, con un'attività che dura 12 ore. Per i contadini di professione il patentino per l'uso di fitofarmaci si somma ad una serie di altri adempimenti necessari per svolgere l'attività agricola che rischiano di dissuadere il numero già esiguo di agricoltori rimasti sul territorio. In Liguria, secondo me, il contadino è un missionario in più che ha questo compito di preservare il territorio. Bisogna fare in modo che questo benedetto contadino sia anche un personaggio a salvaguardia del territorio. Ha incontrato gli studenti di Chiavari Giacomo Mazzariol, giovane autore di un libro che racconta la sindrome di Down e che ha emozionato tutta l'Italia. Sempre in tema di studenti abbiamo raccolto le testimonianze di coloro i quali sono al lavoro per l'apertura e fare da guida anche all'interno della mostra dedicata al tema dei migranti allestita all'auditorio dei Filippini, sempre a Chiavari. Li vediamo in servizi. La storia di tuo fratello, possiamo dire, ti ha cambiato nel corso del tempo questo. In che modo hai cambiato sguardo su di lui? Beh, all'inizio pensavo che mio fratello fosse una persona da accudire e poi ho scoperto che in realtà la sua logica, diversa dalla mia, non era affatto inferiore, non era affatto stupida come io all'inizio pensavo. E quindi ho capito che il suo mondo era un mondo fichissimo, tanto quanto quello di ognuno di noi, si è preso dal modo giusto. Cioè... E' un mondo un po' al contrario, dove un iPhone può essere usato come mestolo per la pasta asciutta, dove ti fingi morto mentre giochi a prendi-prendi e se gli chiedi se sei morto lui dice di sì. E' un mondo un po' strano all'apparenza, però pieno di energia. Come sei passato dal rifiuto iniziale all'accoglienza di tuo fratello? Niente, ho capito che insomma io con Gio stavo bene sotto sotto e quindi non aveva senso basarsi sul giudizio delle altre persone per modificare un rapporto che invece a casa mia era bellissimo, no? E quindi ho capito che non dovevo fregarmene di quello che pensava l'altra gente su di Gio. Tu durante l'incontro con i ragazzi hai detto che non bisogna partire nel giudicare le persone da quello che manca a loro. Ci vuoi spiegare cosa significa? Io, cioè mi ha fatto molte cose, non le sa fare, non le può fare. E io mi ero fissato su quelle. Poi quando mi si sono aperte le vie per scoprire quello che poi lui sapeva fare veramente non solo ho capito che erano molte di più le cose che sapeva fare rispetto a quelle che non... ma ho anche capito che io ne avevo tantissime su cui non mi ero soffermato di disabilità, no? Ma disabilità avere, cioè non saper dedicare il tempo alle persone che se lo meritano. Questa è una disabilità, dobbiamo dirlo. Migranti, la sfida dell'incontro. Di cosa parla la mostra? La mostra è stata proposta dal meeting di Rimini del 2016 che aveva come titolo Tu sei un bene per me. Tu sei un bene per me sta a significare che noi possiamo individuare l'altro come un bene per noi stessi. In particolar modo il migrante e questa mostra non vuole far fronte a questo problema ma di questa emergenza di trarne un bene per noi, una cultura e soprattutto un incontro che deve avvenire tra persone e deve partire proprio dal basso della popolazione. A chi è rivolta questa mostra? La mostra è rivolta a tutti, in particolare ai giovani, poiché comunque attraverso la scuola, attraverso lo studio, possano trovare comunque una sorta di aiuto e di ispirazione anche per il proprio futuro. Come vi sentite a fare le guide per la mostra dei migranti? Oggi io presenterò per la prima volta e sicuramente questa mostra mi sta già soltanto a leggere questi pannelli, mi ha aiutato molto perché era una tematica su cui essendo ho solo 16 anni non mi sono mai soffermata su questa tematica e ho avuto modo di approfondirla e mi ha sensibilizzato molto, ho imparato un sacco di cose e immagino che quando avrò finito questo percorso qualcosa mi sarà rimasto senza dubbio e qualcosa di buono sicuramente. Queste non devono essere considerate soltanto come ore di alternanza che sono progetti di portamento con la scuola ma proprio come i veri e propri insegnamenti. Così in questo modo hai una visione totalmente nuova sulla questione, cosa ne pensi? Io effettivamente ho avuto modo di medesimarmi nel migrante stesso e appunto di vedere sotto un'altra prospettiva di vita nuova questa integrazione che può dare veramente dei frutti se effettuata nel modo più corretto possibile e quindi spero anche di poter trasmettere attraverso la rappresentazione dei pannelli quello che ho imparato io stessa. Torniamo a parlare del discorso accoglienza migranti, diversi i comuni che hanno aderito al progetto SPRAR sostenuto da Lanci e altri invece quelli che lo hanno rifiutato. In prossimo servizio vi proponiamo le due posizioni, una quella a favore dello SPRAR del comune di Santa Margherita Ligure e una contraria relativo al comune di Rapallo. Parleremo poi inoltre della situazione dei pescatori in protesta per l'aggravarsi delle sanzioni che regolamentano il settore e poi un corso rivolto ai giovani che desiderano occuparsi di lavoro, temi sociali ed inclusione che partirà a breve all'opera Madonnina del Grappa di Sesto e Levante. Vediamo i servizi. In merito all'accoglienza dei profughi Santa Margherita Ligure ha deciso di aderire a questo nuovo sistema, lo SPRAR. Quali sono le ragioni? Abbiamo deciso di governare nei limiti di quanto è possibile questo processo per far sì che sia la pubblica amministrazione a gestire la tempistica degli arrivi, il controllo e la verifica sull'andamento, i numeri degli arrivi, la tipologia e l'inclusione. Non vogliamo che siano soggetti privati a gestire il nostro territorio. Lo SPRAR per il momento è un contenitore. Voi a Santa Margherita Ligure avete già un progetto più preciso? Avete idea di quanti profughi eventualmente accogliere e dove? Ragioneremo inizialmente su una decina di persone per elaborare il progetto, perché anche questo è un concetto fondamentale. Lo SPRAR consente di prendere poche persone per realizzare una inclusione, non di accogliere qua grandi numeri di persone che poi restano nulla facenti. Elaboreremo questo progetto insieme alle parrocchie e alle associazioni territoriali di volontariato. In merito all'accoglienza dei profughi, Rapallo ha preso l'orientamento di non aderire allo SPRAR, al sistema proposto dall'Anci. Quali sono schematicamente le ragioni fondamentali? Quello che noi non vediamo è proprio il tipo di progetto. Innanzitutto il perché passare dal CAS allo SPRAR. Seconda cosa, assolutamente non abbiamo certezze sui numeri, non ci sono state date delle certezze sui numeri e non ci sono state date delle certezze proprio sul tipo di progetto, dove andranno e cosa faranno. Abbiamo tanta doverosa e importante sensibilità nei confronti di questi migranti che hanno bisogno, ci mancherebbe altro, però mi farebbe piacere averla anche con i nostri cittadini. Però non vede un'incognita nel fatto che comunque con il CAS Rapallo potrebbe in un futuro avere appunto l'imposizione di un elevato numero di stranieri? Non ho nessuna certezza neanche affrontandola con lo SPRAR. Per incertezza almeno la linea la scelgo io. C'è effettivamente il fatto di andare incontro alle richieste della Lega Nord? No, 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 guardi, su Rapallo di politico c'è poco, c'è un discorso anche di buon senso. Sciopero sospeso in attesa di notizie dal governo. I pescatori ritirano per il momento le intenzioni bellicose prospettate fino a ieri. Avrebbero dovuto incrociare le braccia a martedì per protestare contro le sanzioni previste nella legge 154 del 2016, che di fatto inasprirebbe il regime in essere. La norma, che precisa le regole per la tutela delle specie ittiche e più in generale dell'ambiente marino, fa parte di un più ampio pacchetto di provvedimenti varati la scorsa estate in materia di agricoltura e di pesca. Il problema principale per i pescatori è rappresentato dalle sanzioni, che ammonterebbero a diverse migliaia di euro, fino a 150.000 per i recidivi, in caso di mancato rispetto ad esempio delle misure minime del pescato o della cattura di specie protette. Al di là dell'applicazione dei principi generali dell'Unione Europea, l'ammontare complessivo delle multe è stato determinato dal governo e per questo sul governo si sono concentrati gli strali dei pescatori professionisti italiani. Una folta rappresentanza Ligure ha partecipato alla manifestazione nazionale che si è svolta a Roma. Il problema non sono le regole, ma l'importo delle multe, ha precisato questa mattina il presidente della cooperativa Armatori e Pescherecci di Santa Margherita Ligure, Benedetto Carpi, che ha aggiunto, il nostro settore è già fortemente penalizzato a causa delle norme sempre più complesse, non solo da applicare ma anche da interpretare, e una multa così alta, unita al fermo dell'imbarcazione, potrebbe significare la chiusura di una intera attività. A fronte di questa vasta protesta, il governo ha chiesto 15 giorni di tempo per verificare se esistano margini per ridurre l'importo delle sanzioni. Lo sciopero dunque, in considerazione dell'apertura dimostrata, è stato sospeso in attesa di novità. Labora a mille giovani è il titolo, il nome di questo progetto che ora state portando avanti in tutta Italia, in che cosa consiste? Questo progetto è un progetto di alta formazione e si articola in una serie di giornate, normalmente va dalla mercoledì fino alla domenica, in cui i ragazzi, attraverso anche un metodo nuovo, potranno sperimentare, attraverso testimonianze di persone che partecipano alla vita sociale, istituzionale del paese, le novità che ci sono in corso per preparare una leadership sul piano della presenza in tutti i luoghi della società, sia nell'economia, nel lavoro, nelle istituzioni, che possano vedere attraverso l'ottica della dottrina sociale cristiana che cosa significa oggi poter esercitare una leadership di servizio. Urge soprattutto nell'ambito dei giovani una preparazione specifica, una formazione che non sia quella dei canali tradizionali che ormai lasciano il tempo che trovano, ma che sia originale, per questo anche il metodo che verrà impostato sarà particolarmente originale. Perché oggi siete presenti qui a Sestilevante, come zona del Tiguglio insomma? Ma per preparare l'evento che abbiamo progettato per i ragazzi appunto della Liguria e del Piemonte per i prossimi giorni, per affrontare i temi appunto del sociale, dell'economia. Quanti ragazzi è rivolto a questo progetto? Beh, è rivolto a un migliaia di persone in tutta Italia, abbiamo già iniziato in Campania. Quanto durerà questo corso? No, durerà metà settimana, da mercoledì dicevo a domenica, ma poi saranno seguiti, saranno seguiti costantemente da parte nostra, si costituiranno, potranno costituirsi, dovranno costituirsi in comitato e lavorare sui temi sociali e politici della zona. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, abbiamo parlato del turismo, si sono svolti infatti a chiave gli stati generali del turismo con la regione Liguria che ha presentato i progetti e anche le intenzioni di finanziamento per sviluppare il settore. E poi arriva a Trigoso, è stata varata la settima Frem che servirà per le missioni internazionali dell'Italia, garantiranno comunque ancora all'interno del cantiere ci saranno ancora carichi di lavoro per i prossimi dieci anni. E poi si sta chiudendo il cerchio in merito ai candidati, alla carica di primo cittadino a Chiavari, sono al momento cinque quelli che sono in corsa. Vediamo i servizi. Per rilanciare la tradizionale vocazione turistica della Liguria ci sono molte cose da fare. Per prendere il volo però occorre avere un aeroporto funzionante e trafficato, lo scalo di Genova invece non viene sufficientemente utilizzato. Diciamo che nel corso dell'ultimo anno l'aeroporto di Genova si è dato molto da fare per attirare nuovi vettori e per avere nuove rotte. Per anni, lo dicono analisti del turismo, l'aeroporto di Genova ha vissuto come l'aeroporto di partenza per i Liguri. Dobbiamo convincerci che invece l'aeroporto di Genova deve essere l'aeroporto di arrivo per i turisti che vengono a vedere la nostra regione, a visitare la nostra regione, a fare turismo nella nostra regione. Il piano strategico regionale per il turismo, presentato a Chiavari dall'assessore Gianni Berlino, prevede futuri finanziamenti per i comuni turistici. Per assumere questa dicitura occorrerà essere iscritti nel registro apposito, avere un ufficio informazioni turistiche funzionante e adottare la tassa di soggiorno. Quest'ultimo provvedimento è decisamente mal visto dagli albergatori, come afferma la presidente di categoria a Chiavari, Elisabetta Bacigalupo. Siamo di base contraria all'introduzione della tassa, per ovvie ragioni, sicuramente perché il turista non apprezzerebbe, diciamo, un ulteriore aggrave della sua spesa di partenza. Attualmente la legge parla di tasse del singolo comune, quindi... Che per ora non possono essere introdotte comunque. No, no, fino al 2017 sicuramente no e vedremo per il 2018, il 2019. Noi ovviamente ci auguriamo che non venga introdotta, se nel caso dobbiamo essere assolutamente coinvolti nella gestione. Lo sviluppo in senso turistico passa anche attraverso una maggiore promozione mediatica. Forte del successo dell'hashtag LaMiaLiguria, che ha già raggiunto 20 milioni di utenti, ora l'agenzia InLiguria sta preparando anche un'app. Sentiamo Carlo Fidanza. Vedrà la luce tra pochi mesi l'app LaMiaLiguria, deve avere dei contenuti innovativi, affascinanti, stimolanti, deve avere informazioni certamente, ma anche consigli per la vacanza, suggestioni, emozioni. Il sindaco di Chiavari ha sciolto la riserva. Stamattina in conferenza stampa, Roberto Levaggi ha annunciato che si ricandiderà come primo cittadino. Con l'hashtag LaMiaChiavari, per il momento, e con le liste ancora in preparazione, provoca con la domanda sindaco presente. Sale a 5 dunque il numero di candidati che hanno presentato ufficialmente la loro corsa alle amministrative 2017 della città. L'annuncio di Levaggi era il più atteso. Nato nel 1952 nel quartiere di Caperana, viene da 5 anni di lavoro alla guida di Chiavari. In precedenza è stato consigliere in regione e poi assessore regionale. Tra i primi a presentare la propria candidatura, quasi un anno fa, è stato Giorgio Canepa con la lista partecipativa. Ora è consigliere comunale di minoranza, carica che ricopre dal 2012. È nato nel 1947 a Lavagna e ha alle spalle 30 anni di attività nell'azienda di informatica IBM, oggi è in pensione. La terza candidatura ufficiale è quella di Marco Di Capua, che correrà sostenuto dalle liste Avanti Chiavari, il gruppo ad oggi rappresentato in consiglio da Roberto Rombolini e Giuseppe Lagomarsino, e Marco Di Capua sindaco. Ci sarà forse una terza lista, per il momento il gruppo è impegnato a formarla. Di Capua è stato assessore esterno nella giunta dei Barbieri nel 2002, confermato assessore con il sindaco Agostino dal 2007 al 2012, con le deleghe, tra le altre, ai trasporti, al bilancio e ai tributi. Siamo al quarto candidato ufficiale, Giovanni Giardini, sostenuto dalla lista Cambia con me, di cui oggi è capogruppo consigliare. È nato nel 1953 a Rapallo ed è architetto. Nel 2012 era stato nominato presidente del Consiglio Comunale, ma l'anno successivo, in seguito a disaccordi con la maggioranza, era stato sfiduciato ed era passato tra i banchi dell'opposizione. Quinto candidato a correre per la fascia tricolore è Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle. 47 anni, architetto, il suo nome è stato scelto dopo una consultazione online degli aderenti. Resta infine da capire cosa farà il centrosinistra. Siamo al lavoro per definire il candidato, spiega Mauro Ferretti, segretario del PD di Chiavari. Contiamo di presentarlo a giorni. Anche la pioggia battente ha tenuto a battesimo la Federico Martinengo, la settima fregata europea multimissione Frem, costruita nello stabilimento Fincantieri di Riva Tregoso e varata questa mattina alla presenza delle autorità civili e militari. Madrina del Varo è stata la signora Mina De Caro, vedova di Giuseppe Porcelli, comandante della fregata Scirocco, che perse la vita nel 1997 durante un'attività operativa condotta nell'ambito della forza navale NATO nel Mediterraneo. La nave ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Può raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi, con una capacità massima di personale trasportato pari a 200 persone. Questa nave la stanno vedendo quasi tutte le marine del mondo e la ritengono la nave migliore che esiste. Quindi, poi noi partecipiamo ovviamente a... non è mica detto che le vinciamo le cose, perché non è solo dato per fare. Però un paese come l'Italia, che non è brilla, per quello che lei diceva, il sistema paese, il fatto che riusciamo a vincere delle commesse anche nel militare, secondo me, vuol dire che sappiamo fare le cose. L'unità proseguirà prossimamente le attività di allestimento nel cantiere integrato navale del Muggiano di La Spezia. Intanto a Riva Trigoso si stanno impostando i lavori per le ultime fregate multimissione. In tutto saranno 10, che tra le altre garantiranno carichi di lavoro costanti per i prossimi 10 anni. Complessivamente, per tutto il gruppo Fincantiere si sta vivendo un periodo di relativa tranquillità, anche se per l'amministratore delegato Bono occorre puntare di più sui mercati extraeuropei, contando sulle eccellenze e le capacità professionali presenti all'interno dell'azienda. Le pecore nere ci stanno dappertutto, però la maggior parte è veramente dedita e orgogliosa. Non solo quelli che lavorano qua, ma pensate a quelli che abbiamo in giro per il mondo, in Australia, in America, da Abu Dhabi, in Bangladesh, quindi gente che si dedica con passione. Vi lasciamo adesso al nostro approfondimento. Questa settimana è dedicata al Stato, al punto dei lavori nell'area Apreli a Chiavari. Si stanno costruendo i due edifici previsti dal progetto di riqualificazione dell'area. Si stanno ultimando le operazioni di costruzione dei tetti. Sono cinque i piani fuori terra. È un progetto che rispetta le indicazioni date dagli enti sovraordinati, comune e sovraintendenza. Nonostante questo, qualche protesta in merito all'impatto che i due edifici hanno sull'area. Abbiamo sentito proprio le voci dei cittadini. Vi lasciamo al nostro approfondimento. Vi rinnovo l'appuntamento con il Tg Guardando la settimana fra sette giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Sono stati rispettati comunque i vincoli che il progetto prevedeva? Noi stiamo eseguendo il progetto che era previsto nella variante del SUA, approvato dal comune, dalla sovraintendenza, da tutti gli enti che sovraintendono questo tipo di interventi che si affacciano su spazi pubblici. Il progetto aveva queste dimensioni. Oggi l'impatto visivo è un po' falsato perché il ponteggio che contorna i due edifici li rende un po' più imponenti. Una volta snelliti da questa situazione avremo anche la percezione della divisione dei due edifici che oggi sembrano addirittura collegati. Qui c'era anche un vecchio cinema. È stato demolito o verrà ricostruito? Cosa è previsto venga riutilizzato? L'edificio è stato demolito perché non aveva una consistenza tale per essere restaurato. Il parere, appunto, avevamo la sovraintendenza che si aveva approvato la demolizione, avremo una fedele ricostruzione. Probabilmente sarà un edificio destinato all'attività commerciale e alla ristorazione. Va avanti anche le opere pubbliche previste all'interno del progetto. È stato portato al vivo l'edificio del vecchio cantiere? Sì, adesso stiamo imbastendo il nuovo, la realizzazione di quello che era il vecchio cantiere, la palazzina degli uffici dove venivano costruite le vele delle barche. Sostanzialmente l'edificio sarà identico con la differenza che avremo degli spazi pubblici, avremo il passaggio diretto dalla piazzetta dei pescatori, piazza Gagliardo, sulla nuova piazza pubblica che andremo a creare. Quando si vedrà già la passeggiata poi prevista nel progetto? Qua penso che andremo all'anno prossimo perché avendo tutti gli spazi pubblici del piano terreno a destinazione pubblica praticamente, dobbiamo per forza terminare gli edifici, smobilitare del cantiere e dare finita poi la piazza pedonale. Non lo so se riusciremo magari a consegnare una porzione, magari quella verso mare in precedenza, dobbiamo vedere un attimo anche con il discorso dei collaudi e quant'altro. Lei sta seguendo questi lavori da tempo? Sì, li ho visti nascere diciamo, meglio adesso che come erano prima, solamente mi sembra che stiano andando troppo in alto. Se li tenevano più bassi, la montagna di dietro insomma si vedeva un po' di più e risaltava un po' anche il panorama e tutto. Prima era un covo di barboni, di rumeni, di eccetera, 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 era una cosa pazzesca quello che ho visto io in questi anni. Adesso almeno se nient'altro qualcosa di buono l'hanno fatto. Stava guardando i lavori in corso? Sì. La sua impressione? Che poi erano troppo alti perché ci portano via la bellezza della montagna, già la Torre Farra lì, diciamo, quello è un monumento nazionale sembra. Ci vogliono, ci vogliono. Adesso è perché siamo in tanti oltre noi, quelli che sono arrivati. Mi piacciono e spero che finiscono presto, avremo un altro rione di Chiavari un po' meglio che prima. Alcuni dicono che sono un po' troppo voluminosi questi nuovi edifici. Fa parte della vita, uno che costruisce vuole guadagnare. Certamente se era un piano o meno va bene, ma se ci hanno dato la cosa di fare l'edilizia così vuol dire che i responsabili sono in comune. Devo dire una cosa, per me quelle case là sono un po' tanto grandi. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse più spazio per il verde. C'è una riqualificazione anche per quanto riguarda i banchi? Sicuramente, sicuramente, ma anche per questa zona, sicuramente anche per la colonia Farra che è bellissima adesso, così com'è. C'è il vecchio palazzo, a cui quello sulla ferrovia, che è stato riportato alla struttura antica. Sarebbe auspicabile che facessero un restauro conservativo. Grazie. 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 Grazie.